C'è un elemento simbolico molto importante in questa votazione perché diamo un segnale verso una società diversa, verso un capitalismo che non è così aggressivo, così inumano. Possiamo vincere e la vinceremo se riusciamo a mobilitare la gente. Questa iniziativa sta sollevando un movimento nella società civile senza precedenti, però non basta ancora. Quelle persone che di solito non vanno a votare devono andare a votare perché è importante, perché è una scelta di società. Ognuno di noi ha la facoltà di contribuire a questa mobilitazione, così vinceremo certamente. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Grazie a tutti.